The Highest Evolution Honor's Balance, cura di Vubè. Il giorno prima di compiere il suo ufficio, Monsignor Luigi praticava un digiuno di giudizio per avvicinarsi puro alla sua funzione, ma nel suo anelito di purità era puntualmente contraddetto dai progetti di guadagno in cui lo implicavano gli altri giudici rotali. Spesso, per annullare un matrimonio e compiacere alcuni suoi colleghi, Monsignor Luigi faceva giurare ai testimoni di aver udito che prima dell'unione coniugale uno dei due fidanzati non voleva avere figli. Questa menzogna, suggerita in cambio di denaro, valeva la nullità del matrimonio. Da qui l'insofferenza di Don Mario per queste truffe spirituali e la conseguente difesa di Monsignor Luigi, per il quale, la Chiesa diceva, era comunque la luce delle plebbi e tale rimaneva agli occhi di colui che l'aveva posta come lampada ardente e sempre lucente. In particolare il prelato insisteva sulla funzione spirituale della Sacra Rota, che doveva salvare i coniugi dalla vendetta di un matrimonio che Dio non proteggeva più. Quel giorno Don Mario si sedette a pranzo in refettorio con gli occhi spenti sul novizio che mangiava di fronte a lui. Rimanere prete era per lui una scelta dura come la roccia del suo paese. Forse non sono desiderato da Dio, pensò, scansando le occhiate curiose del novizio. Al termine del pasto e fuori del refettorio Don Mario incontrò altri novizi che giocavano a pallone gioiosi e sorridenti. Tutti, tranne lui, parevano felici. Si tolse il calciatorino nero che indossava sopra la tonica e lo annodò intorno ai fianchi. A questo punto i novizi gli passarono la palla e Don Mario la ripassò a sua volta come una cosa viva, tanto era abile nel gioco del calcio. Passarono tre mesi e Don Mario fu mandato a Pisa, presso il convento delle suore del mandato, per tenere dei corsi di catechismo. Mentre era intento a leggere il programma dei corsi, la madre superiore lo scrutava. Si sieda, padre, invitò la suora con gentilezza. Don Mario si lasciò cadere sulla sedia. Non avrei mai pensato di tenere dei corsi per delle sorelle, disse. Quanti anni ha chiesa la madre superiore? Quasi quaranta. La suora strinse le labbra. Spero che le porti un alito di conforto alle mie novizie, disse. La fede non è più quella di una volta e le tentazioni sono di molto maggiori. Perché? chiese Don Mario. Ieri ho dovuto irrompere fuori del convento per richiamare una novizia francese, che stava per essere adescata da un signore distinto, che aveva cominciato a parlarle. L'ho rimproverata aspramente. Può capitare, commentò Don Mario. A me non è mai capitato, disse la madre superiore. Forse perché lei non ha mai avuto motivi di tentazione. Questo lo crede lei, si risentì la suora. Alludevo alla sua fede di ferro, precisò Don Mario. Anche la fede di ferro però non ha un valore definitivo, perché è solo un'esperienza. Non la capisco, disse la suora. Come non detto, disse Don Mario. E il loro dialogo terminò così. Alludevo alla sua fede di ferro.